Il tuo capo l'algoritmo è un libro sul lavoro di oggi e di domani, è un libro su come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di lavorare, è un libro sul futuro del lavoro se vogliamo, però a differenza di tante analisi sul futuro del lavoro che si concentrano solamente sull'aspetto quantitativo, quanti lavori verranno persi in seguito all'automazione, all'introduzione di robot e software sempre più efficaci, il nostro libro si concentra soprattutto sulla qualità del lavoro che viene creato e che verrà creato. La tecnologia infatti ha un impatto significativo sul nostro modo di lavorare, sul fatto che i nostri manager sono sempre più capaci di monitorare anche molto pervasivamente la nostra attività lavorativa con software, con GPS, con algoritmi che molto spesso si risolvono. Si risolvono in strumenti di sorveglianza che vanno molto oltre quello che è desiderabile in una società democratica. Il tuo capo in algoritmo è un libro scritto a quattro mani per essere letto da tutti, non è un manuale inaccessibile, non è un manifesto per tecnofobi, è invece un dispaccio dal fronte del lavoro in trasformazione. Si interroga sul ruolo della intelligenza artificiale, della robotica, delle piattaforme online e lancia un messaggio chiaro. Lo stato del progresso tecnologico non è inevitabile, al contrario bisogna battersi affinché sia il frutto di scelte consapevoli, scelte collettive e decisioni politiche che ci impongano di realizzare quella promessa emancipativa della tecnologia. Il progresso tecnologico e digitale deve liberarci da quelle attività meno appassionanti, più ripetitive, più pericolose. Deve ridurre le disparità, accorciare le distanze, annullare la discriminazione. Questo è il messaggio del libro. Le istituzioni sociali sono flessibili, ma c'è bisogno dell'umanità al comando della trasformazione digitale per vivere e lavorare meglio.